Il Comune di Chieti ha ribadito la propria contrarietà all'utilizzo in tempi immediati della discarica di Chieti da parte di Ambiente S.p.A., la società che raccoglie il pattume in provincia di Pescara e che vorrebbe destinarlo all'impianto teatino. La posizione è stata ribadita dal sindaco Umberto Di Primio in un incontro istituzionale con alcuni sindaci della provincia di Pescara, il presidente della provincia Guerino Testa, il presidente di Ambiente S.p.A. Massimo Sfamurri e Roberto Pasqualini di Deco S.p.A., la società che gestisce la discarica di Chieti, l'assessore provinciale all'ambiente Eugenio Caporella. Pur avendo risposto nella sola misura del 5% e solo se strettamente necessario, all'appello ad una solidarietà regionale, ha detto Di Primio, il fermo obiettivo della mia amministrazione è quello di tutelare la salute dei cittadini che abitano nella zona circostanze l'area di Casoni e di ribadire la contrarietà a qualsiasi ampliamento e rimodulazione della discarica di Chieti ai fini della sua stessa chiusura definitiva. Chieti, ha aggiunto il sindaco, ha adottato nel corso degli ultimi anni strumenti validissimi per la tutela ecologica come la raccolta differenziata che ha raggiunto le soglie del 65% e importanti certificazioni ambientali. Questi sforzi non possono essere vanificati a causa di una tardiva o mancante programmazione. Per questo il comune si batterà finché la discarica di Chieti sia l'ultimo luogo disponibile per il conferimento dei rifiuti del pescarese.